Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neavolis 1926. Signori, è finito il calciomercato invernale di gennaio. Qualcuno l'abbiamo venduto? Ora vi faccio vedere un po' la rosa. Abbiamo, guardate gli attaccanti, ce ne sono rimasti 5, 7 centrocampisti, 6 difensori e 2 portieri, ragazzi. Abbiamo smaltito parecchia, parecchia roba, ragazzi. Allora, il prossimo anno noi perderemo Lopez, se non sbaglio, ma dovrebbe rientrare lungo, lungo che ha meno 2 addirittura. Ancora due mesi, legamento crociato anteriore, fuori per due mesi, ok, fuori per due mesi, siamo messi bene comunque, dai. Questa è la nostra battaglia, cicci, battaglia e speriamo che può aumentare. Russo, ce l'ha arrivata anche un'offerta per Russo, ragazzi, ma non l'ho venduto. E ragazzi, è come Leo, Leo, Fontana, Russo, Poli, non so a che punto sia con la preparazione. Comunque andiamoci a giocare questo spalla a Napoli, andiamo in campo. Leo, come detto, è un COC o un AT, era un AT. Mancosu, vuole appendere gli scarpini a chiodo, l'ultima stagione per Mancosu? Ok, va bene, non ci interessa nulla, non ci interessa nulla, ragazzi. Contano solo i tre punti, come già detto. I tre punti sarebbero molto fondamentali per via dei play-off, ragazzi, eh. Quindi andiamo, Villa, subito, eh. Russo, oh, Russo. Oh, ma che cagata. Ah, però è sempre nostra, vai, vai Russo. Guarda c'è Moretti, guarda c'è Moretti, Moretti, 1-0 Neapolis, subito Moretti. E andiamo, signori, Moretti, 1-0, partita benissimo. È partita benissimo, via, dopo cinque minuti, subito. Instant, vai più. Bene così, bene così. 18 gol in 25 partite per Moretti, capocannoniere della Serie B. Ricordiamolo, ragazzi, eh, perché ogni tanto... Oh, Lopez, mannaccia a te. Ogni tanto va bene ricordarlo. Quei due di davanti fanno paura. Moretti. Sanchez. È partito, è partito. Guarda c'è Moretti. Ah, è fuori il gioco, bravo però. Dai, Leo. Leo, Leo. Guarda c'è Fontana. Madonna mi si è passava. Bravo, Kovacevic. Dai, Sanchez. Russo. No, perché me l'hai ridata lì? Per chi? Per chi? Ah, Villa ce l'ha fatto prendere da dietro. Mi c'è c'è lì. Mi c'è lì. Mezzo. Esposito. Bravo. Rossi. Ok. Rischiamo poco. Dai. Leo, contropiede Neapolis. Su, eterno. Per un giocatore che ha dato tanto a questa maglia, io sono curioso di sapere cosa deciderà di fare dopo. Bravo. Bravo, Esposito. Dai, andetila per bene. Peccato, peccato, peccato. Peccato, era molto buona come palla, eh. Dai, forza. Peccato. No, guarda che culo. Guarda che culo, Murgia. Occhia, Murgia. Oh, Coppola. Madonna, Mirossi. Ragazzi, non si lascia mai la palla lì, eh. Dai. Via ora. Buono. Dai, Moretti. Cos'è? Angolo? Angolo? Angolo. Mattira vicino, bravo. Così. Leo. Fuori. Russo. Russo. Ah, peccato. Potevo tirare. Sanchez. Madonna mia. Bene, bene, bene così. Così ci garba. Allora, mettiamolo un po' a pallonetto. Vediamo com'è. Ehi, a pallonetto è buono. Ecco, Vacevic. Allarga. È buono, eh. Regolare? Buona puntana di testa, Alfonso. Alfonso. Ehi, se perdi tempo a me vi va benissimo, amico mio, eh. Anche Esposito dentro. Bravo, Lopez. Peccato perdere Lopez, ragazzi, eh. Peccato veramente perdere Lopez. No, Lopez. Che strunzate. Occhio. Occhio di... Occhio a Moncini. Moncini. Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Dai. Bravo. Sì, ma uno che parte? La fontana. Ma la fontana è il tiro. Maronna, mi finisce i primi 45 minuti. Dai. Su. Su. Il Ternana non ci interessa. Il Modena non ci interessa. Dai. Che sono sotto di noi. Non ci interessa. Allora, questa è la prossima. Abbiamo tutte squadre che sono sotto di noi. Quindi, a regola, dovrebbe essere più facile. No? A regola. A regola, eh. Che a Moncini. Bravo, Lopez. Dai. Villa. Dai, Fontana. Guarda, c'è il rosso. Russo, scusatemi. Russo, perché questa cosa? Perché questa... Questa lentezza del passaggio. Gabriel era già trasferito un'altra volta. Ah, bu. Comunque. Non ci interessa. Bravo, Povacevic. Mostro. Madonna, mi sei passato quella palla per Russo. Ma la manovra stenta a decollare. La circolazione palla è troppo lenta. Gli avversari... Ragazzi, bene, mi sai. Dobbiamo mettere un po' la squadra in offensiva. Oh, a chi è c'è lì? Oh, ve lo siete persi? Oh. Madonna mia, vaiù. No, no. Mamma mia, mamma mia, vaiù. Mamma mia. Sì, facciamo i game. Facciamo i game. Facciamo i game. Mamma mia, vaiù. Mamma mia. C'è andata di Russo. C'è andata di Russo. Dai. Eh, io ho esposito quando parte. Madonna mia, se passava. La dovevo alzare. Ragazzi, occhio. Occhio. Si è aperta la difesa, non è possibile. Ogni tanto si apre la difesa così. E a me mi sale luce perché, vaiù, non si può aprire la difesa così. Cioè, non riesco a capire come mai. Attenzione ad Esposito. Ma non l'avevo vista dentro, vaiù. L'avevo vista dentro. L'avevo vista dentro, vaiù. Mamma mia. Dai, Lopez. Esposito. Leo. Perché? Non ci voglio credere. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto Lopez? Bravo Coppola. Santo Coppola, vaiù. Dai. Dai Ricci. Sono tutti fermi. Sono tutti fermi. Sono tutti fermi. Bravo Fontana. Dai. Maronna mi. È buono. È buono Moretti. Cioè, ragazzi, un altro pareggio così. Io non voglio pareggiare un'altra volta. Cioè, voglio. Dai. Dai, Govacevic. Dentro. Fontana. Fontana. Ma non l'ho capito. Ma cosa ha preso? Ma cosa ha preso? Eh, io non ho parole. Non ho parole che ha pigliate queste. Boh. Che cosa ha preso? Leo di testa. Dai che è buona. Dai che è buona. Bravo Ricci. Dai Govacevic. Eh, qui chiamano tutti la palla, però nessuno vi entra. Eh, io, ragazzi, come va? Ma dai, madonna. Bravo Coppola. No, no, Sanchez, siamo rì. Non ci voglio credere. Meno male è strunzo. Meno male è strunzo. Dai. Non contro i piedi. Facci finire l'azione. Ma vaffanculo. Ma dai, ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Oh, arbitro, quando fischi? 1 a 1. 1 a 1. Incredibile, voglio. 1 a 1. 1 a 1. È incredibile. 1 a 1. Io vorrei... Cosa apprezzo quelli su Fontane? È una cosa incredibile. Boh. Boh. No, potremmo essere scavalcati nuovamente in classifica, ragazzi. Andiamo un po'. Avanza. Murgia, sfortunato. Ah, Murgia è stato sfortunato contro il Neapolis. Ah, bene. Si va benissimo. Fammi vedere un bravo di classifica. Siamo lì ancora, eh. Siamo ancora al settimo posto, dai. Però abbiamo il Palermo che ci... Che è sotto, ah, voglio. Sono tutti morti. Sono tutti morti. Ma come si fa a pazzire così? Ogni due giorni è normale che i giocatori non ce la facciano, eh. Moretti, 18 gol in campionato. Miglior marcatore della Serie B. Eh. Eh, ci aspettiamo tutti da lui, eh. Tutti ci aspettiamo molto da lui. E Fontana non l'ha nemmeno segnata la scorsa partita. Quindi, Fontana... Servi anche te. Dai. Bravo, Lopez. Ragazzi, dobbiamo chiuderla subito perché ci avremo i giocatori che sono morti. Maronna mi fonda peccato. Torregross. Attenzione al Torregross. Bravo, Sanchez. Maronna mi se passava quella palla. Se passava quella palla, vaiù. Chiamuratan. Occhio in mezzo. Mamma mia, vaiù. Mamma mia. Primo tiro in porta per il Pisa. Ragazzi, ma uno che viene... Ragazzi, ma uno che viene... Incontro. Dai. Sanchez. Russo. No, ho sbagliato. Ma vaffanculo, ho perso pure il tempo di gioco. Manovrano elegantemente con questa serie di passaggi... Maronna mi. Non, non... Pazzo. Cioè, io non ho parole. Dai, Sanchez. Maronna mi. Cioè, ragazzi, io non ho parole. Non ho parole. Non ho parole. Sono gli astime. Come ti è andata. Come ti è andata. Dai. No, Leo, che sbagliato. Non vuoi fare questi sbagli così, eh. No, Leo, che sbagliato. Eh, c'è la mamma la pallacchista. Dai. Dai, Russo. Dai, Fontana. Ma no. In Genova come sta in classifico? Che non me lo ricordo. Ma no, Lopez. Bravo. Su. Moretti. Porco. Oh, cane. Occhio a Devitis. Occhio. Cioè, ma che gol ha fatto questo? Ma che gol ha fatto questo? Cioè, io non ho parole. Io non ho parole. Guardate questo che gol ha fatto. Io... Pisa in vantaggio. Ma tu guarda questo che gol ha fatto. Ma tu guarda questo che gol ha fatto. Dai, ma io non passo. Non basta più una palla. Non basta più una palla al centrocampo. È incredibile. No, dai. Bravo. Bravo, Lopez. Ma no, Moretti. Ma che hai, Moretti? Ma che hai? Moretti. Ma no, come l'ha stoppato. Dai. Su. Su. Su, è buono. Dai, Russo. Dai, Fontana. Maronna mi. Cioè, questi fanno i miracoli. E i miei giocatori non fanno i miracoli. I portieri di quegli altri fanno tutti i miracoli. Tranne i nostri. Vai, giù. Dai. Ma uno che fa un cazzo di movimento sul primo palo. Nessuno, eh. Nessuno. Nessuno. Aiuto. Benevente 0-0. O Perugio pareggia. Ah, il Palermo che fa? Non me lo fai vedere il Palermo. Frosinone verde, la verde. Provo, Frosinone. Dai. Porco Dio. Dai, vieni qua. Battiamo in due. Su. Primo pallone della ripresa. Moretti. Cioè, io non ho parole. Non ho parole. Non ho parole. Accorta a Torregrossa. Sanchez. Fontana. Moretti. E sono tutti fermi. Guarda, c'è fondana e mezzo. Non è possibile, capigliate. Ma cosa ha preso? Cioè, vai, io non ho parole. Cioè, io non ho parole. Io non ho parole davvero. Boh. Cioè, io non ho parole. Capigliate. Cioè, non lo so di me. Dai qua, facevi. C'è il giro. Ha preso pure questa. Cioè, io non ho parole. Ha preso pure questa. Ha preso pure questa. Dai. Su. Uno di te. Stec. Spacimo. Dai fondana. Dai fondana. Bravo. Samu. Leo, a giro. Mamma mia, Leo. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Clamoroso. Clamoroso. Cioè, io gioco e questi segnano. Io non ho parole. Cioè, i tifosi ci credono, eh. Porco. Questi passaggi. Quando fanno questi passaggi a QS. vai giù. De Vitis. Benevento vince. No, non è possibile. Ora non esco più di... Ora non esco più. Guarda. Bravo esposito. Dai. Dai. E' uno che fa l'asso. Chi è a Torregros. Bravo Villa. Cioè, io non è possibile. Che sbagliano questi passaggi così elementari. Non è possibile. Dai. E' la da c'entra. Oh, fuori gioco. Albi, trovo. Nemmeno fuori gioco. Ma io schiaffo un po' sto pressing. Ma io butto tutta la squadra in attacco, eh. Mi è inutile. Madonna mia. Perché? Perché? Guarda. Ah, c'è questo. Te lo giuro. Butterei il joystick vicino alla televisione. Butterei il joystick vicino alla televisione. Sono sincero. Sono sincero, voglio. Sono sincero. Scasso tutto. Scasso tutto. Cioè, ma come fai a sbagliare questi... Maroni passaggi. Cioè, io non ho parole. Cioè, io veramente devo scassare tutto. Ma io veramente ho scassato tutto il coso. Cioè, io non ho parole. Non ho parole. Non ho parole. Sto maroni che fa i miracoli, che coppia di giocatore mi diceva. Ma te lo giuro, scasserei tutto, scasserei. Scassassi tutto il coso. Ma tu guarda là. Ma tu guarda là. Guarda là che aveva sbagliato un'altra volta. Cioè, io non ho parole. La sconfitta pesante sì. Sconfitta pesante sì. Cioè, guarda là. Adesso, io non ho parole. Ma che gol? Scusami. De Vitis. Ah, De Vitis ha segnato. Parata, parata, parata. Cioè, io non ho parole. Non ho parole. Non ho parole, vado. Non ho parole. Voglio vedere la classifica di Serie B aggiornata. Secondo me ci hanno scavalcato tutti, siamo sempre là, meno male, ah ma deve giocare ancora il Palermo, allora andiamo avanti, posta in arrivo, c'è posta, c'è posta, classifica, ha pareggiato il Palermo che ha fatto, ora con l'Ascoli, ora con l'Ascoli noi dovremmo vincere, dovremmo vincere per forza con l'Ascoli, per accorciare sull'Ascoli, cioè io non ho parole, gol subiti, 42 gol subiti, cioè ragazzi siamo la perciò difesa del campionato, insieme al Como, cioè rendiamoci conto, rendiamoci conto, rendiamoci conto, rendiamoci conto, posta in arrivo, mi devo leggere la posta amico mio, vabbè la legge, no non c'ho posta in arrivo, non c'ho niente, allenamento, rendiamo la forma fisica, cioè io non ho parole, non ho parole, sono bestemmie, non stiamo seguendo i piani, ma come apprendiamo ampiamente discusso all'inizio stagione, l'obiettivo è espandere il nostro marchio rappresentando un traguardo importato per il club, un traguardo che a me sembrerebbe fuori dalla nostra portata, le invitiamo, ottieni una serie di derretti inviolate, fuori casa, amico mio, ma se stiamo facendo cagare, abbiamo la peggior difesa, la peggior difesa, ma io che devo fare, che devo fare, che devo fare, che devo fare, amico mio, questo no, io lo staff della primavera, questo non mi ha ancora portato nessun giocatore, questo non mi ha ancora portato nessun giocatore, boh, non lo so, non lo so, io non so più che fare, non so più che fare, ora lo sapete che faccio, guardate, osservatori, 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 assumi osservatori, allora, non ci sarebbe nessuno, quello è il bello, gestione osservatore, sposto osservatore, in Italia, in Italia, il tuo giocatore, già stanno seguendo qualcuno, lo mandiamo in Spagna, voglio cercare i giocatori qui, in viaggio, reso conto, questo cosa ci ha portato, per perfizio, blau, ma secondo te, no, immobile, cioè io non boh, vabbè, ragazzi, chiudiamo qui il video, perché se no si fa un video di 40 minuti, poi c'è da editarlo, c'è da farlo, la prossima è con l'ascoli, signori miei, giochiamo con l'ascoli la prossima, che dite, ce la facciamo a non fare una figura di merda, almeno con l'ascoli, non mi fate scassare nulla, va bene, iscriviti al canale, mi raccomando, tasto mi piace, campanellino, già lo sai, ciao, ciao, ciao. Grazie.